Uomini e donne si incontrano, e si corteggiano, alla ricerca dell'anima gemella. Il pubblico in studio è chiamato a partecipare alle vicende amorose dei concorrenti con commenti e consigli. Da settimane non si parla d'altro, il trono di Ida Platano sta facendo tanto discutere. Soprattutto perché, con i suoi cavalieri, ci sono continui alti e bassi che hanno messo in dubbio la sua presenza nel programma. Non a caso. Lei stessa ha più volte fatto sapere di non sentire interesse da parte di Mario e Pierpaolo. In attesa, però, di scoprire che cosa succederà, nelle ultime ore la tronista ha condiviso con i follower un indizio social decisamente inaspettato. Ha infatti pubblicato una storia Instagram, in cui ha mostrato di aver ricevuto un mazzo di fiori e un bigliettino molto esplicito. Sono Massimo. Ti voglio tanto bene. Se mi aspetti ti sposo io tanti auguri. La tronista ha ricevuto un romantico dono da parte di un uomo misterioso che si chiama Massimo. Non ha aggiunto maggiori informazioni. Quindi non si sa se Ida conosca, o meno la persona che le ha fatto recapitare il regalo con il bigliettino.